Una sentenza vergogna, ingiusta, uno schiaffo all'Abruzzo. Sono solo alcuni dei commenti di ambientalisti e politici alla sentenza del processo Bussi, successivi alla lettura del dispositivo ieri alle 17, da parte del presidente della Corte d'Assise di Chieti, Romandini, che ha assolto tutti i 19 imputati ex vertici e tecnici Montedison perché l'avvelenamento delle acque non sussiste, derubricando l'altro capo di imputazione messo in piedi dai PM Mantini e Bellelli della Procura di Pescara, quello di disastro ambientale doloso, incolposo, facendo così calare la scure della prescrizione. In un'aula Giacomo Matteotti semideserta, popolata solo dagli addetti ai lavori, rigorosamente a porte chiuse con telecamere e giornalisti fuori dall'aula e senza che ci fosse il benché minimo accenno di proteste da parte di comitati civici o ambientalisti, cosa che era prevedibile alla vigilia della giornata di ieri, si è scritta la parola fine al primo grado di giudizio secondo il rito abbreviato sulla vicenda della mega discarica di rifiuti tossici Montedison di Bussi sul Tirino, iniziata con il sequestro a marzo 2007 da parte della Guardia Forestale di quella che è stata la causa, stando alla perizia dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'inquinamento delle falde che rifornivano di acqua potabile 700.000 persone. L'inquinamento quindi è certo anche perché il reato di disastro colposo c'è, seppure prescritto, mancano però i colpevoli. In questo senso il tempo passato, troppo, ha giocato contro l'impianto accusatorio della Procura e contro le 27 parti civili. La Corte ha tenuto conto di tutti gli argomenti, ha tenuto conto di tutte le le argomentazioni che questa difesa ha fatto e ha accolto la tesi difensiva. Non possiamo dire appunto nei dettagli, leggeremo le motivazioni, ma sicuramente tantissimi aspetti, tantissimi temi che abbiamo dedotto in questo processo sono stati valutati, evidentemente valutati con grande attenzione da parte della Corte di Assisi e di Chieti. Il disastro in realtà esiste, è passato però troppo tempo per accertarlo e come è avvenuto anche recentemente in altre situazioni, immaginatevi la cassazione sull'Eternit, in realtà non si è affermata una responsabilità perché attraverso la derubricazione da fatto di volontà a fatto di colpa questo disastro rimane senza colpevoli. Fra 45 giorni si potranno leggere i motivi che hanno spinto la Corte d'Assisi ad assolvere i 19 imputati, ma già si preannunciano ricorsi in appello, come quello del Ministero dell'Ambiente. Proseguiranno anche i procedimenti amministrativi e le cause civili per il risarcimento dei danni, con la Regione in prima linea per bocca dello stesso Presidente D'Alfonso. Sfumato il risarcimento miliardario chiesto dalle parti civili quasi 2 miliardi di euro, quello che rimane è un sito da bonificare qualcuno che paghi almeno monetariamente per lo scempio che è stato fatto al territorio e all'ambiente oltre ai danni causati alla salute delle persone. Al di là delle responsabilità e della polemica, il vero schiaffo all'Abruzzo potrebbe essere proprio che a pagare per la bonifica della discarica di rifiuti tossici più grande d'Europa sia lo Stato, cioè i cittadini, cioè gli stessi che ignari per anni hanno bevuto l'acqua inquinata.